Vasta operazione dei carabinieri nella zona del Canturino contro lo spaccio di droga, i furti nelle abitazioni e lo sfruttamento della prostituzione. Per tutta la giornata di ieri e fino all'alba di oggi, i militari dell'arma sono stati impegnati in modo massiccio sul territorio. Nell'ambito dell'operazione sono scattate denunce per spaccio e per reati contro il patrimonio, oltre a provvedimenti per guida e stato di ebrezza. Nella zona del Canturino hanno lavorato decine di militari dell'arma, delle compagnie di Como, Cantù e Menaggio, con il supporto dell'unità cinofila di Casate Novo. Un'attenzione particolare è stata data al controllo della prostituzione su strada, soprattutto sulla Novedratese, da Arosio all'Urago Marinone. Sono state controllate 25 lucciole. Nel corso del servizio sono stati effettuati numerosi posti di blocco. I carabinieri hanno identificato oltre 180 persone e scoperto due automobilisti al volante in stato di ebrezza. L'attività si è concentrata anche sulla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nell'area boschiva del Parco Pineta di Appiano Gentile. I carabinieri hanno sequestrato 200 grammi di hashish e smantellato due accampamenti abusivi, dove venivano ospitati numerosi tossicodipendenti. Spaccio anche nelle aree urbane. Nel comune di Cantù è stato denunciato a piede libero un 31enne, trovato in possesso di oltre 130 grammi di hashish e marijuana. Nello stesso contesto sono stati segnalati sette assuntori. Ad Appiano Gentile è denunciato un 19enne trovato in possesso di due piante di canapa indiana di 90 e 17 centimetri, custodite in un sottoscala e rivestite con carta alluminio. Nell'ambito della prevenzione di furti sono stati infine denunciati una comasca per un furto di una fotocamera in un negozio e un canturino quarantenne segnalato per porto d'armi e oggetti atti a offendere perché trovato con un grosso coltello. Grazie a tutti.